Ero lì sul palco perché presentavamo che per la prima volta in Italia un gamer veniva sponsorizzato da Adidas Arriva questo ragazzo e mi fa questa domanda parlando della mia famiglia Era nella mia stessa situazione che avevo vissuto anni prima con mio padre La prima cosa che mi viene in mente è dirgli di non fare quello che ho fatto io Cioè io ho nascosto che mio padre è morto e i miei amici per tantissimo tempo Per il momento mi levo il microfono, abbraccio il ragazzo e gli dico cosa dovrebbe fare lui Dai per scontato che la tua famiglia c'è per sempre Quindi mi sono reso conto lì che molte volte non passiamo abbastanza tempo con le persone che abbiamo intorno a noi Perché lo diamo per scontato, no? Io ero sempre concentrato su me stesso, non su chi è intorno a me Gli ho detto usa ora il tempo che hai per stare assieme Perché poi tra tanti anni ti pentirai come me E io me ne pento